Adesso è una volta che il nostro concittadino, il dottor Luigi Lucia, ci parlerà di inquinamento ambientale e delle neopografie, perché poi questa è la brutta cosa che deriva dall'inquinamento ambientale. Prego, dottore Lucia. Grazie, buonasera a tutti. Un doveroso ringraziamento agli organizzatori per l'invito e a voi per essere intervenuti. Vedo che si vede molto poco, come crediamo di... A me è stato affidato l'incarico, il tema di delineare quelle che sono le possibilità tra l'inquinamento ambientale e il sviluppo delle neopografie umane. E parto da una diapositiva, che è questa nella quale vi faccio vedere quello che è il nuovo codice diatologico del medico, che all'articolo quinto sostanzialmente dice due cose, cioè praticamente dice la stessa cosa. Dice che l'ambiente, il medico è tenuto a considerare l'uomo che vive nell'ambiente e quindi da, come dire, considerare, fare in modo che le risorse naturali garantiscano, come dire, la possibilità che l'ambiente venga preservato alle future generazioni e venga reso fruibile per una vivibilità migliore. Questo è quello che noi dovremmo fare, ma la domanda che poi ci poniamo, e siamo veramente facendo questo, cioè è veramente... siamo garantendo la fruizione di un ambiente vivibile alle nostre generazioni futuri e di conseguenza ai nostri figli. Il problema è che questa associazione dei medici dell'ambiente ha stilato un punto, un documento in 10 punti sulla circa 10 anni di danni, lungheramente danni alla salute e sostanzialmente nel decimo punto ha ritenuto di dover sottolineare come chi si interessa di ambiti, chi si interessa di malattia reale all'ambiente dovrebbe non avere un conflitto di interesse. Qua vedete il conflitto di interesse di torna prevalentemente, quindi non solo in politica, ma anche nella nostra quotidianità. E questo possiamo vedere in questa valutazione che fu fatta, in questa metanalisi che fu fatta da Dole e Bito, che sono forse le più grosse persone che si interessano di metanalisi inglesi, i quali avevano nel 1980 delineato questa statistica, avevano fatto emergere come solo il 2% delle cause che il cambio era attribuito all'ambiente. Tutto questo però, come dire, era falsato, pizziato dal fatto che nel 2007 è venuto fuori che il serdova, in quale sostanza, era sommenzionato dall'industria chimica e quindi la relazione, questa relazione del 100% sul cambio, in qualche misura, viene un po' come dire, bisogna mettere in discussione e sostanzialmente, probabilmente, il 98% delle ideoplasie che risentono un incremento ambientale. E quindi da questa considerazione possiamo dire che dovremmo considerare questo principio di precauzione che tutto sommato ci dice che seppur, in termini scientifici, non abbiamo una stessa relazione tra le cause e quindi la neoplasia, però se questa condizione a noi sempre in qualche misura è interessata, dobbiamo prendere delle giuste precauzioni anche in mancanza di un dato certo e la conferenza di Artus e Dantanimac, credo 1995, in realtà prevedeva che, o meglio, consigliava che il cittadino venisse parte non solo con il voto all'elezione dei propri rappresentanti, ma quando si fosse parlato di ambiente e quindi di proposte in questo senso, dovesse essere assolutamente partecipi e probabilmente uno di questi, cioè il forum di Vito Lazio e questo è anche lo scopo di rendere un po' noi partecipi in questa considerazione. L'inquinamento ambientale è in molte cose, un inquinamento atmosferico, un inquinamento visivo, un inquinamento legato con la serie di condizioni per cui volendo parlare di tutte le cause, come causa di malattie di bioplasia, diciamo una cosa abbastanza lunga e abbastanza complessa, poiché a noi non che è una cosa sia migliore o peggio di un'altra, ma sostanzialmente abbiamo vissuto e continuiamo a vivere i problemi di rifiuti solidi, i problemi del incendimento dei cassonetti, il problema degli incenditori che sono stati in qualche misura considerati, a me è perso più logico incentrare la mia attenzione, la nostra attenzione su questo aspetto e quindi l'aliquinamento legato dai zanni, cioè l'evento delle masse, delle biomasse e praticamente dei rifiuti. E quindi faccio una considerazione generale per cui gli incenditori sono stati considerati come dire, indossi di saldo di classe prima e non dovrebbero insistere su terreni agricoli che sono come dire caratterizzati dalla qualità, dalla tipicità dei prodotti di quella zona. questo diciamo non è proprio sempre vero. E quindi che cosa, qual è l'impatto delle combustioni sulla nostra salute? Che cosa viene fuori dalla combustione delle biomasse, dei petrogli eccetera? Giusto per andare un po' velocemente, vabbè qui c'era una affermazione presso Valeria che è una persona abbastanza importante e abbastanza nota nell'ambiente in cui dice appunto che l'uso del biomasse a scopo energetico presenta problemi di impatto ambientale, tutt'altro che trascurabile e quindi noi dobbiamo prendere considerazione in questo aspetto. E allora se valutiamo rapidamente quali sono le principali decisioni del cemento vediamo gli osso di di azzolo, il particolare, la di pesante e alla fine le diossine, la diossina che è quella che conosciamo tutti. Vediamoli rapidamente, l'osso di di azzolo è appunto il precursore di l'ozio pioggia acide e viene convertito anche in ozzolo dall'azione dei raggi solari. Questa condizione è, come dire, alla base di una tossicità abbastanza spiccata, polmonare, epatiche, patologici, a problematiche con le costruttive, banteoplasia anche polmonare, è abbastanza evidente. Un'altra classe di molecole sono i particolati, i particolati che in natura si trovano, si trovano tranquillamente, sono nelle scende di buccaniche che esabili del deserto, mentre vengono prodotte in modo, quindi nella nostra attività, appunto dalla combustione industriale, biomasse, cementifici e quant'altro. La pericolosità del particolato è legata alla grandezza della molecola, della molecole sostanzialmente, una molecola dannosa per l'organismo è una molecola che abbia un diametro inferiore ai 10 micron e particolarmente una molecola che abbia un diametro inferiore ai 2,5 micron. E qui c'è la, per chi non ricordasse la misura, è un ricordo che faccio a me stesso, un millesimo di millimetro, quindi una lesione di 2,5 mm, una molecola, è capace di fare una serie di cose. Qui vi faccio vedere come questa molecola si è inserita, diciamo, normalmente tra virus, batteri, corboli rossi e il posto in cui occupa questa molecola è praticamente molto sottile e quindi può essere tranquillamente inalata attraverso l'albero banchiale, essere, come dire, andare in circolo, ma anche ingerita e può essere, come dire, causa e questa è una, come dire, un'affermazione in Europa, ci sono 348 mila morti annui per la presenza di particolari.